allora ragazzi oggi devo farvi una video recensione sul libro sul public speaking di luca vanin quindi io che sono bravissimo a parlare in pubblico perché voi lo sapete che io sono bravissimo a parlare in pubblico vi devo fare una confidenza una confessione la confessione è che io sono timidissimo e quindi ho sempre avuto molti problemi a relazionarmi con le persone mo chissà perché ogni volta che dico questa cosa non ci crede nessuno però tu ci credi perché tu per forza ci crede allora sono venuto nell'orto perché ho pensato che soprattutto di questi tempi questo cavolfiore fai vedere il cavolfiore questo cavolfiore parla da solo allora se io non c'ho il coraggio di parlare mi rivolgo a lui dico cavolfiore aiutami cavolfiore comunque luca vanin ha fatto questo libro che è molto interessante perché si rivolge proprio a chi come me utilizza ogni giorno skype o qualunque altro sistema di videoconferenza per fare il proprio lavoro per confrontarsi con altre persone e quindi se devi fare videoconferenze se devi fare riunioni online se devi fare sessioni di formazione o videocorsi o semplici skypeate questo ti può aiutare tantissimo perché è un libro che parla di dialettica e di retorica ti aiuta a vincere la paura io credo che mi darà una serie di suggerimenti interessanti anche per me che sono uno di quelli che cerca di vincere la timidezza buttando buttandosi a capofitto nelle cose ti ho detto questa piccola confessione mi sembra un testo interessante perché ti dà una serie di chiavi di lettura per muovere bene i passi organizzando una presentazione quindi come gestire come presentarti come organizzare la scaletta come dare il ritmo alle cose magari hai visto mai imparo qualcosa e allora io intanto te lo suggerisco il testo è corposo ci dice tanto e ti lancia anche qualche bella sfida intellettuale quindi è proprio veramente un invito a guardarti dentro per tirare fuori alcune cose belle che hai o io però però detta solo a te questa cosa che sono timido non lo dire troppo in giro rimane tra noi ci sono